Prosegue il nostro tour qui alla Conca, siamo con il brasiliano Giuliano Raucci, Energy, Gandolfi Racing. Facciamo un bilancio di come stanno andando, di come stai andando qui sul circuito della Conca, in un circuito pieno di gomma che si sa mette veramente a dura prova tutti i piloti. Sì, penso che sto andando troppo bene, perché in tutte le gare sto migliorando, ho fatto troppo meglio tutte le gare e siamo qua con tanti gommi così, sì, è difficile ma non è impossibile guidare, ma è buono. Ti sei affacciato qui in Italia, quindi karting a livello internazionale, WSK Series e varie gare di livello internazionale. Come ti trovi con il team Gandolfi? Qual è la tua prospettiva in ottica futura? Insomma, a cosa ambisci in questa stagione? Penso che ando bene con Gandolfi, penso che voglio andare con il KF2, se vuoi il KZ con Gandolfi, tutti con noi. Penso che è ok, tutto a posto. Bene, obiettivo invece per questo weekend? Ah, andare bene, prendere esperienza per fare in altri gari, andare bene in tutti i gari, solo a prendere con questo. Quanta differenza c'è tra il karting internazionale europeo, qui in Italia, e il karting, diciamo, dove sei cresciuto, in Brasile? Qua è troppo difficile comparato con Brasile, perché qua c'è tanti gomi e c'è tanto pilota, qua guidiamo con 120 pilota, in Brasile guadiamo con 25, 20 pilota massimo, qua è troppo o meglio. E' dura? Sì. In Bocca Lugo. Sì.